Tornami, baragna metri verso l'area, occhio al pallone per il possibile vantaggio, 1-0 nel primo quadro. Si affida una fitta rete di passaggi, posizione ideale, intervento che vanifica il buon tentativo di cross. E c'è la traversa, palo e gol, quarto gol della gara, occasione per accorciare le distanze, attenzione, e c'è il gol, si porta adesso a meno uno, attenzione, rimonta possibile adesso, è in zona cross. Deve sfruttare questa occasione, c'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone, Javier Hernandez, occhio al tiro, che tumbo nel portiere, attenzione, Gabriel Jesus. Con questa palla punta la porta, grande riflesso del portiere, che dice... Ci sarà solo un minuto di recupero. Finisce qui il match, vittoria ottenuta davanti ai propri tifosi. Si sono imposti col minimo scambio. Tornami.